Allegri ha fatto benissimo, porco Dio, e ha spuntanato con la squadra di merda che è una sessuale delinquere che si chiama Rubentus, ma non lo vuole di parlare, sentiamo i vocali che ho scritto nei giorni scorsi, come appunti, porco Dio, e saremo invincibili, Dio, porco Dio, Marco Lallucci, portiere simbolo della Fiorentina, venite con la Ligna a Firenze, la Fiorentina, Dio, porco, e saremo invincibili, Dio, porco, Dio, e ricordate di Juventus, siete una squadra di merda, non siete una società, siete delle merde, siete una società delinquere, ha delinquere, vergognatevi, vi ha fatto vincere tutto, porco Dio, vergognatevi, Dio, cale, vergognatevi, forza di ora sempre, forza di ora sempre.